che si chiama Immagina Strade Nuove Immagina Strade Nuove è una soluzione che è composta di tre componenti principali il primo componente è il fatto che assicura una mobilità di ciascuno di noi indipendentemente dal fatto che utilizziamo la nostra auto di proprietà ciascuno di noi ad esempio facendo caso ufficio prende la propria auto, arriva in stazione poi dalla stazione prende il treno scende dal treno, prende la metropolitana prende il bike sharing e arriva in ufficio ecco che lo spostamento è fatto con più mezzi con Immagina Strade Nuove noi assicuriamo, copriamo il rischio della persona che si sposta su diversi mezzi seconda caratteristica assicuriamo un nucleo di persone oltre al contraente della polizza abbiamo la possibilità di dare una copertura assicurativa a 5 persone oltre al contraente proprietario del veicolo queste 5 persone non per forza sono persone del nucleo familiare il contraente proprietario del veicolo può scegliere persone che però gravitano intorno alla famiglia e che hanno bisogno di soluzione assicurativa per coprire il loro viaggio ad esempio la data che porta i bambini a scuola ecco che questa persona che non fa parte del nucleo familiare ma di fatto utilizza la macchina e ha bisogno di una soluzione assicurativa con Immagina Strade Nuove ha questo tipo di garanzie di copertura terza grande caratteristica è il fatto della atomizzazione delle diverse garanzie non si comprano più dei pacchetti di soluzione a scaffale ma si va insieme al consulente alla vendita insieme alla gente che vuole vendere la polizza assicurativa a comporre secondo un puzzle di componenti differenti il prodotto assicurativo, la soluzione assicurativa in merito alle esigenze del consumatore c'è un elemento importante il tema del real time coaching che vi ha presentato prima il collega fa sì che ci siano servizi di prevenzione e di informazione che ci differenziano rispetto alla nostra concorrenza il cliente mentre sta guidando alcuni di voi stamattina sono venuti con alcune delle macchine del Real Italia Talent o di DriveNow hanno la possibilità di vedere in tempo reale come stanno guidando non solo quindi avere un feedback in fase di rinnovo della polizza sul fatto che sono stato un buon guidatore e quindi ottengo uno sconto ma in tempo reale sul fatto che devo migliorare il mio stile di guida perché è uno stile di guida troppo penerario con accelerazioni brusche e frenate improvvise ecco che questo tipo di feedback può essere molto importante per educare alla guida ma altresì questa soluzione assicurativa mi dà la possibilità di essere proattivo nei servizi di assistenza ha un viva voce incorporato ha la possibilità di mettersi in contatto con il conducente del veicolo che non per forza è il proprietario del veicolo non per forza è colui che ha contratto la polizza e ha lasciato il numero di cellulare all'agente ma è una persona che può essere il coniuge il figlio che sta guidando il veicolo e in caso di emergenza in modo proattivo la centrale operativa si mette in contatto direttamente a bordo del veicolo e parla con la persona e dà un servizio di contenimento del possibile danno e di assistenza proattiva alla persona e di assistenza proattiva all'agente e di assistenza proattiva all'agente